Le terme di Caracalla sono lo scenario ideale per un torneo di ginnastica. Forse nemmeno nel più lontano passato si vive dentro queste mura uno spettacolo tanto incantevole come quello della giapponesina Ikeda. E quello della sovietica Astakova e delle sue compagne. Grazie a tutti. Nel 1932 a Los Angeles i giapponesi avevano filmato le prove del nostro Romeo Neri, l'angelo di Rimini. A casa loro ebbero poi tutto il tempo di studiare movenze e rigore stilistico. Su quel vecchio film Ono ha imparato meglio di tutti. Su. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.